Ciao a tutti ragazzi sono sempre io il vostro amico Federic95ita e benvenuti alla seconda parte dell'apertura del primo box di Pokemon XY Wild Blades E si ragazzi ecco qui come al solito il nostro box che avevamo già aperto nella prima parte ragazzi Che se non l'avete visto vi invito a cliccare qui esattamente qui ragazzi Cliccate qui e andate a vedere la prima parte se non l'avete vista E poi naturalmente tornate qui a vedere questa seconda parte che sicuramente sarà entusiasmante Allora ragazzi vi invito come al solito a mettere un bel pollice in su E niente io ho già detto troppo ragazzi apriamo subito i nostri 5 pacchetti giornalieri Quindi 1, 2, 3, 4, 5 ragazzi si Federic sa contare ecco qua i pacchetti Allora via il box ragazzi ricordo abbiamo due box l'altro box eccolo qua bellissimo Che apriremo nelle prossime parti dalla quarta parte in poi Allora ragazzi ecco qua i nostri 5 pacchetti Nella prima parte ragazzi non vi spoilerò nulla non vi dico cosa abbiamo trovato andatevela a vedere E vai iniziamo subito siamo sempre conveniati di queste super forbici Mamma mia vai ragazzi iniziamo subito questa apertura E speriamo che questo box sia fortunato Via ragazzi allora come al solito abbiamo il nostro codice che non ci interessa Facciamo il nostro solito trick Dai ragazzi che se troviamo in questa parte 1x voglio come minimo 200 like Allora vai mettiamo a fuoco le carte ragazzi perché chi non mette a fuoco non si vede niente Allora questo si dovrebbe chiamare l'evoluzione Stunkan Allora questa non so come si chiama ragazzi Vabbè puzzoletta la chiamiamo Va bene poi qui abbiamo l'evoluzione di gommi che non mi ricordo come si chiama ragazzi Va bene Caterpie Allora questo come si chiama Allora No non me lo ricordo Buneri e questo è non lo so Va bene Rapidash alla fine abbiamo capito che Federic sa i nomi Va bene ragazzi va bene Federic sa i nomi Ma che sa Federic che certi nomi proprio non mi ricordo più Tra un po' arriviamo a 800 paolo ragazzi come parole ricordammeli Boh non si sa Comunque vai ragazzi vai 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 Allora 1x2 trick come al solito nostro Allora questo si dovrebbe chiamare helioptile Dai ragazzi che è un po' come di ultima generazione non lo so Helioptile mi ci gioco la mano Allora questo è la formigona oddio non mi ricordo Va bene Eh ok Va bene trainers E poi un melodic bellissimo Oh lo bello 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 Vabbè i poco più importanti ragazzi me li ricordo dai Va bene Comunque questo era centret se non mi ricordo male Comunque li so visto L'importante è pensarci un po' ragazzi dai Ok altro pacchetto Questo dovrebbe essere il terzo pacchetto di oggi Già il terzo pacchetto wow ragazzi Commentate commentate e fatemi sapere cosa ne pensate di questi box Commentate ragazzi io leggo tutti i commenti e rispondo sempre a tutti Ancora trick Ok vediamo un po' cosa troviamo Allora qui troviamo Febas Bello Febas Qui abbiamo trovato sia Milotic che Febas Poi qua abbiamo l'evoluzione di No questo dovrebbe essere centret se non mi sbaglio No Forse si Si Forse Boh non lo so non mi ricordo Vabbè gommi Poi warlane E infine un golem Guardate che bello sto golem ragazzi Artwork veramente assurdi Mi piacciono veramente un casino Guardate che belli questi artwork Guardate bellissimi Soprattutto questo warlane ragazzi che Non ho parole per descrivere la bellezza Bello 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 Vai con il penultimo pacchetto di oggi ragazzi Vai di questa parte Vai 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 Ok Sbustato Ringrazio sempre le mie forbici che mi aiutano ragazzi Ok Facciamo il trick No una X non si trova in sto box Che è Oh ragazzi E taglie Troviamo sta X Vai un Geodude Un Ladvisk Questo è la bella puzzoletta Trainers E infine l'Eliolisk ragazzi Questa è la funzione di Elioptile Bellissimo Guardate che bello questo Eliolisk Bello 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 Vabbè hanno fatto veramente un ottimo lavoro ragazzi Non ho niente da rimproverare Questa Questa box Che sono veramente Artwork veramente ben fatti Se non fosse per i poco di ultima generazione Che io non me li ricordo poco per niente Ma vabbè ormai siamo arrivati a X e Y Credo sia pure normale Voi che dite eh Ok Vai con Caterpie Poi abbiamo un Buizel Poi abbiamo un Buizel PJ Snorlax Wow Wow La numero 64 su 80 Bella bella ragazzi Tanti like per questa carta Mi raccomando Bella 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 Quindi per questa seconda parte è tutto Su 10 pacchetti ragazzi Ah no non vi devo spoilerare quello che abbiamo fatto nel primo box Quindi non ve lo dico Va bene Comunque abbiamo trovato questa bellissima X E niente Comentate Iscrivetevi Lasciatevi un bel pollice in su Passate tutti i link qua sotto in descrizione Come la fanpage E niente Da Federic è tutto E noi ci vediamo la terza parte Di questo fantastico box di X e Y Wild Blades Bella ragazzi